Prosegue l'operazione Tutankhamon organizzata dal quotidiano Trieste Oggi nella zona di Santa Maria Maggiore. L'occhio indiscreto delle telecamere è finalmente riuscito a scrutare nell'anticamera di quella che potrebbe essere la residenza mortale di tre mummie egiziane, ovvero le viscere di Cittavecchia. Di prima mattina, dopo il primo test sulla consistenza del sottosuolo nello spiazzo del cantiere del Ciet, effettuato sabato scorso con il radar, l'equip di specialisti, coordinata dall'ingegner Angelo Giglio e dal geofisico Mario Zini, è scesa nuovamente in campo. Sulla base di dati elaborati dal computer è stata disegnata una mappa dell'area in cui risultavano evidenziate le anomalie registrate dalle onde elettromagnetiche, cioè i punti ritenuti più interessanti ai fini di un'indagine in profondità. Dopo aver passato nuovamente al setaccio, maglie più strette con il radar, le zone in questione, è arrivata la conferma definitiva dell'esistenza di un cunicolo. Quello stesso si ipotizza che il restauratore di mobili Orlando Bellon ricorda di avere percorso quasi 25 anni fa giungendo infine a una porta murata un passo dai sarcofagi.